A Palermo abbastanza caldo ma non le terrificanti temperature del centro nord ma le luci artificiali sono già state accese mentre i cavalli vanno agli ordini dello starter. Un'ultima occhiata all'andamento del gioco, adesso è calata la quota di Newcastle che dal 2,20 di poc'anzi è sceso di parecchio, adesso addirittura 1,63 contro il 4,29 di Pettiro Soget il 5,13 di Rania dei Fiori ed il 5,93 di Rama e il gioco però è ancora aperto. Tutto è pronto, va in partenza la prima corsa di Palermo. Prima corsa di Palermo, anziani di categoria e guidati dai gentleman in 7 al via chiari favori al gioco per il numero 6 Newcastle, si va in partenza, Newcastle prova ad andare a assumere il comando deve scavalcare una roggerelle che oggi sembra un po' più pimpante dell'ultima occasione addirittura prova per 150 metri a reggere Newcastle che adesso all'imbocco della prima piegata può passare a condurre. Dunque in testa il favorito Newcastle, quota di chiusura di 1,54 e calato parecchio proprio nelle ultime fasi della contrattazione in seconda posizione Roggia RL, i primi 400 metri di Newcastle in un tutto sommato normale 30,5 Roggia RL poi Rania dei Fiori in quarta posizione Over Off Club E che precede Pettiro Soget e poi a chiudere lo schieramento l'ultimo dei 7 cavalli al via continua a guidare Newcastle mentre è l'inologiudice con Pettiro Soget che prova ad affrontare la corsia esterna e quindi si sistema in seconda ruota cercando di progredire verso la testa del gruppo che è ancora saldamente in mano a Newcastle dietro il quale ha un'ottima posizione il Roggia RL che ha d'altronde effettuato un'ottima partenza e ne sta adesso avendo i frutti positivi. Risale Pettiro Soget, ne prende la scia Prafic 3B ma il capofilo Newcastle bene in mano ad Antonio Giannola sembra abbastanza in controllo nei confronti di Roggia RL e non permette agli avversari di avvicinarsi più di tanto. Insiste comunque con buona azione Pettiro Soget e cerca di guadagnare qualcosa nei confronti quantomeno di Roggia RL manca poco più di un quarto di miglio al traguardo il miglio iniziale è stato percorso in 2,2 e mezzo quindi si viaggia sul piede del 16,5 più o meno si è esaurita la spinta esterna di Pettiro Soget che adesso finisce con lo sbagliare e prova a venire avanti Overhoff Kluden in avanti resta Battistrada Newcastle che deve ormai percorrere gli ultimi 100 metri per portare a casa il successo che avviene tutto sommato nel più facile dei modi nei confronti di Roggia RL e di Prafic 3B. Inesistenti i due contro favoriti Pettiro Soget e Saurita Salesterno e Rana dei Fiori mai nel vivo non ci sono stati problemi per Newcastle Antonio Giannola proprietario e guidatore come gentleman Andrea Busitta trainer 1,54 la quota sul mio cronometro ho un tempo che dovrebbe essere attorno all'1,16 forse anche un pelino meno Roggia RL dopo l'ultima inguardabile prestazione è tornata a dare la sua linea come tutto sommato ci poteva anche stare e una giudiziosa Rana dei Fiori è riuscita quantomeno a portare a casa la terza piazza dunque in numeri 651 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della prima corsa di Palermo.